e salve ragazzi sono qui master wallace come sempre qui carico 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 per voi per dirvi le cose come stanno nella realtà e non la fuffa e l'ipocrisia dunque l'argomento di oggi è questo poi farò un accenno breve un'altra un'altra cosa anzi prima farò l'accenno breve poi vi parlerò dell'argomento principale che questo argomento principale è perché molti natural diventano seguaci di guru dopati se ci pensate bene a questa è una bella domanda perché effettivamente accade esattamente questo ecco vi direi meccanismi psicologici psicologici che stanno dietro a queste scelte scelerate detto proprio chiaramente allora non l'altro momento è questo qualcuno mi ha detto master ma tu cosa ne pensi di tutte quelle teorie dei centeneggetici del corpo i punti tutte le vibrazioni la spiritualità e quel quel lato eccetera 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 non penso semplicemente nulla sono cose che non hanno ovviamente nessuna validità scientifica nessuna prova niente sono teorie le più disparate ci sono un sacco di religioni orientali che hanno queste teorie un po di tutti i generi più o meno i punti sono quelli no queste quelle ma c'è un bailam di teorie diverse che religioni diversi c'è di tutto quindi che cosa volete che ci sia lì di diciamo di dirici di scientifico nulla sono appunto credenze teorie religiose per cui uno può chiedere a tutte niente vedete il punto debole di queste cose sapete qual è non è tanto il fatto che ovviamente non ci sono evidenze scientifiche nella medicina queste cose non vengono minimamente usate ma neanche nella fisica qualcuno mi citava no però ma se c'era un famoso libro il tavo della fisica di un fisico dell'epoca che faceva teorie strampalate che poi tutti i fisici dell'epoca hanno stroncato dicendo che sono cose diciamo non avevano nessuna nessuna validità scientifica appunto basate così sulla concezione basate su fatti reali scientifici ma che lui aveva estrapolato teorie che non c'entravano nulla e quindi è un po' come il discorso dell'entanglement che molti pensano che possa essere associato a una forma di risurrezione o di non è così non è questo diciamo in principio ma adesso lasciamo stare io vi dicevo il punto debole di queste così credenze teorie appunto teorie nate da da religioni che non hanno ripeto nessuna prova scientifica medicina non esistono semplicemente e neanche nella fisica non vengono pesi meno in considerazione sono queste che sono teorie non falsificabili che cosa vuol dire bisogna bisogna andare un po' nella filosofia della scienza carl popper eccetera eccetera vedete una teoria per essere diciamo valida deve avere una contoprova cioè deve essere falsificabile se non lo è vuol dire che può essere tutto e controlli tutto cioè c'è una logica dietro che ci dice che una teoria per essere confutata deve essere anche falsificabile adesso qui entrare le particolari se verifici ecco queste teorie qua non possono essere falsificabili perché non non c'è nulla da falsificare o provare siamo nel nulla assoluto quindi non serviva nessuna conclusione perché non c'è nemmeno una conclusione provata diciamo ecco quindi riflettete un po' su queste cose certo uno può chiedere a tutto siamo in libertà ci mancherebbe però voglio dire bisogna stare anche un pochi piedi per terra vi dico anche che ci sono usciti sono dei siti scientifici anche medici dove tutte queste teorie cioè sono tante vengono prese tutte in considerazione e vengono letteralmente catalogate come fake news poi se qualcuno ne parla qui le vuole diffondere ok va bene magari ci sta però che uno poi le prenda pervere magari anziché fare terapie mediche che possono avere un'efficacia reale nelle malattie si mette a fare queste cose qua attenzione perché può anche finire male ed è già successo ok mi fermo qua allora perché i guru natural no scusate perché i guru dopati hanno molti seguaci natural e questa è una cosa interessante cioè che cosa si vede in genere si vede un tizio bombarolo può essere chiunque uno noto o meno noto influencer noto non noto campione non campione che hanno un seguito di gente che li segue perché crede in loro perché fisicamente sono quello che sono perché poi è tutto qui segreto è tutta quella il segreto della della fuffa mostrare un certo tipo di fisico in reale che non esiste e far credere che questo fisico è merito della loro sapienza tecnica è tutto qui ragazzi è tutto qui è il meccanismo proprio del marketing anche delle truffe generali no cioè vi fan vedere per esempio non so un prodotto che fa un effetto miracoloso diciamo se questo è l'effetto incredibile lo vogliamo che noi in realtà l'effetto non c'è non esiste quindi credendo che questa gente abbia una una credibilità tecnica e che possono diventare come loro seguendo quello che loro dicono perché ragionamente questo se lui è diventato così facendo le cose che dice anche noi possiamo farlo no è questo diciamo il percorso molto semplice banale da abì che è per quanto è banale ma per quanto è efficace e per quanto è falso e quindi cosa succede seguono quello intanto lo ammirano tantissimo i complimenti si sprecano se incredibile se fantastico se la nostra guida tu sì che ne capisci bravo poi poi tra l'altro questi questi personaggi sono anche bravi nel mettere in mostra delle doti che in un'altra possono anche avere un senso e ce l'hanno per esempio non so la costanza la bregazione lo spirito di sacrificio no che non altro raccontano tantissimo nei dopati no però loro dicono che queste cose loro ce le mettono perché questo impegno continuo allenarsi di continuo tutti i certosini pasti e la motivazione poi sono i video no che sono tutti concentrati e quindi c'è questa il medesimento vengono i medesimati in questa in questa rappresentazione anche di doti umane di qualità umane che rinforza la credibilità del soggetto che in realtà è tutta parte sulla falsità quindi loro cosa fanno gli ammirano tantissimo li esaltano e li seguono dopo ovviamente questo propone le sue idee tecniche non so libri schede corsi colci con anche ne so propone di tutto ovviamente qui poi vi andu categorie ci sono quelli che i bombaroli che sono bombaroli quindi fanno credere diciamo in atto che possono allenarli e magari gli danno anche una forma di coaching di allenamenti natural che non contro nulla perché dato che loro non sono natural quindi dicono cose che loro non hanno mai fatto le propongono e questi qui seguono queste cose ovviamente non diventeranno mai come il campione quindi già questa è la prima fregatura comunque quantomeno si allenano in modo naturo anche se ripeto lui non l'ha mai fatto no e questa è una prima categoria poi c'è la categoria di quelli che sottobanco nella realtà delle cose dicono guardalo se tu vuoi essere veramente a certi livelli come me devi prendere queste cose devi fare questo questo quello che ti dico come fare cosa fare e quindi seguono queste seguono fanno delle preparazioni praticamente chimiche è questo quello che fanno ovviamente i risultati possono anche arrivare perché se comincia a dirti allora prendi questo questo quello puntura di questo pastiglia poi già scrivere la metto che tanto quello non conta niente con i farmaci si ingrossano e poi magari dopo vedete guardate i miei allievi come sono diventati grazie infatti natura quindi ingeni dicono guarda come sono diventati seguendo cioè è tutto un meccanismo di fregatura generale per cui c'è un natura che segue un guru dopato sarà sempre fregato in tutti i sensi perché non potrà mai ottenere quello che lui ha ottenuto grazie alla chimica e e bene che vada comunque se gli propone schede veramente da nato allenamenti da nato preparazioni da natura ancora una volta non otterrebbe nulla ma proprio nulla da queste preparazioni oppure potrebbe cadere nella trappola che gli fa delle preparazioni chimiche di doping e questo ragazzi è ovviamente il segreto di Puccinello funziona così oggi ragazzi che siano influencer che siano guru quelli che sono che fanno uso di doping e si presentano qua questo è il meccanismo non cambia assolutamente nulla la domanda poi è questa come mai c'è tutta questa gente ingenua che crede a queste cose che si esalta a queste cose ma perché questa è una legge di mercato è sempre stato così cioè se guardate le più grandi truffe che ci sono state sul mercato non stiamo a fare adesso nomi famosi eccetera eccetera ma ci sono state miriadi non sono in Italia ma anche all'estero il meccanismo più o meno era questo cioè c'è una platea di ingenui distolti perché è così statisticamente fra una grande popolazione di persone che ragionano con la testa che sono preparate anche culturalmente scientificamente che quindi non si fanno abbindolare su una minima parte perché c'è tanta ignoranza poi oggi ragazzi con i social, i cellulari l'ignoranza fra i giovani aumenta vertigi sono proprio ignoranti cioè non studiano, non sanno nulla stanno solo a quello, hai i soci, quello che dice che è un'ignoranza assoluta in questa ignoranza assoluta chi propone una cosa mirabolante che alla gente piace questi qui ci credono è questo il trucco c'è una platea di ignoranti, di ingenui i truffatori lo sanno propongono questa cosa sapendo che il bacino è enorme e tanta gente ci casca è sempre stato così ma non sono il culturismo, il truffatore del guru dopato ovunque, in tutte le situazioni è così è l'ignoranza scientifica, è l'ignoranza anche culturale che fa queste cose perché chi ha un minimo di cognizione non può pensare che un tizio che propone una cosa irreale basata su falsità possa funzionare su di lui come fa a pensarlo? eppure è proprio così e questo è il nostro mondo ragazzi il nostro mondo è fatto così guardatevi in giro guardatevi in giro ragazzi è così e allora ovviamente noi più che dire le cose come stanno altro non possiamo fare non è che cambieremo niente in realtà non si cambia io dico sempre i miei messaggi sono come bottiglie lanciate nel mare se qualcuno legge il messaggio bene se no la bottiglia rimane persa forse qualcuno si salva bene adesso io sto un po' esagerando con l'esempio delle bottiglie in realtà moltissima gente viene salvata dai nostri messaggi e questa a noi dà molto conforto certo non porta grande gloria questa cosa qui la gloria viene appunto dalle fuffe dalle falsità lì viene la grande gloria anche i grandi numeri se vogliamo però noi quantomeno siamo fieri di fare questa cosa e siamo sicuri di non prendere in giro nessuno che è già molto di questi tempi quindi noi vi ringraziamo e chi vuole venire con noi sa che cose trova qui mentre in giro guardate che cosa trovate e ve ne ho parlato grazie a tutti al top grazie a tutti grazie a tutti